Ciao ragazzi ragazzi, eccoci finalmente arrivati! Io penso con un video super atteso da voi, ma anche da me stesso perché non vedevo l'ora di registrare questo Spill in the Sea with me, Cristiano Cervini, edizione Ilari Blasi, in quanto oggi siamo qui riuniti per fare l'analisi logica e grammaticale del docu-reality, docu-film, che è appena uscito di Ilari Blasi, in cui racconta tutta la sua verità. Verità è riguardante la sua storia d'amore con Francesco Totti, ma soprattutto i tradimenti, gli amanti, i suoi sentimenti, il divorzio e anche i Rolex. Quindi mettetevi comodi, andate a prendere il vostro snack o bevanda preferita, mettete like a questo video e mi raccomando state attenti perché finalmente dopo un anno possiamo mettere un punto, forse un punto e virgola secondo me, però finalmente dopo tanto che tutti ne abbiamo parlato, adesso abbiamo anche la sua versione dei fatti e io non vedevo l'ora. Quindi, storso iniziale? Ah, che storso lungo! Ah, lo siete, scusate! Occhi a me, mi raccomando! Allora, se non lo sapete, ve lo dico io, il 24 novembre, precisamente oggi, ma per voi è ieri, è uscito finalmente il documentario chiamato Unica, in cui, fin dal primo trailer, ci promettevano gossip succulenti di cui parlare. Voi sapete che abbiamo parlato per un anno, praticamente, del divorzio del secolo qua in Italia tra Francesco Totti e Ilari Blasi, ma in tutti gli spilindetti dedicati a loro non c'era mai, o comunque quasi mai, la versione di Ilari, perché lei è sempre stata, diciamo, un po' sfuggente, non ha mai fatto dichiarazioni, ha soltanto un po' giocato con i gossip, per esempio, quando è andata davanti al negozio Rolex e ha fatto la storia un po' così auma auma, però, comunque, la sua versione dei fatti lei non l'aveva mai data in televisione. Tutti pensavamo che fosse per tenere, comunque, un profilo basso, per tenere alla larga i loro figli da ulteriori gossip spettegules, o comunque, anche, per tenerli lontano da questa vicenda, che non può essere che una vicenda, comunque, triste, no, di una famiglia che vive questo divorzio, soprattutto, poi, sotto l'occhio dei riflettori di tutta Italia, con tutti noi che ne parliamo, ma, in realtà, questo silenzio, a quanto pare, era dovuto al fatto che lei stava registrando questo documentario per arrivare un anno dopo, cioè, oggi, a ribaltare completamente la situazione e, finalmente, sappiamo tutto, almeno, la versione di Hilary. Il documentario in questione dura un'ora e venti su per giù e, devo dire che mi è piaciuto molto, io non vi ho mai nascosto che, tra le due parti, ho sempre preso quelle di Hilary, perché mi è sembrata, tra i due, la più vittima, no, tra virgolette. Poi, è vero che, quando c'è un divorzio, comunque, una coppia si lascia, la colpa è sempre un po' di entrambi, no? Però, tra tutti i gossip, tra tutte le notizie che uscivano, a mano a mano, durante le varie settimane, diciamo che io ho sempre preso le sue difese. E non l'ho mai negato. Molte volte ho preso anche le vostre offese per questo, perché mi avete detto, sei troppo di parti, si vede troppo che patteggi per lei e tutto quanto, però, oh, ognuno si fa la propria opinione, io mi sono fatto la mia, insomma. E, con questo documentario, io vi devo dire che avevo ragione. Anche se posso dire una cosa, ok, si soffre, ok, si sta male, non lo metto in dubbio, ma mi è sembrata più una mossa di marketing. Il fatto che lei non abbia detto niente per un anno, facendoci pensare che lo avesse fatto per difendere, per proteggere i propri figli, o comunque la propria privacy, quando in realtà poi è venuta fuori la notizia che aveva fatto tutto di nascosto e quindi aveva registrato questo documentario, ho storto un po' il naso, ho detto, guarda che S-T-R-O-N-Z-A per vendicarsi cosa ha fatto, però comunque rimaniamo sempre delle vecchie ciabattone di periferia, ragazzi, e quindi ci siamo buttati a capofitto e io me lo sono divorato. E adesso andiamo a fare insieme l'analisi logica e grammaticale di quello che lei ha raccontato. Ovviamente, se anche voi lo avete visto, scrivetemi qua sotto tramite commento se mi sono dimenticato qualcosa, se volete aggiungere altre cose, se mi volete anche dire la vostra opinione, sempre liberissimi di farlo, sempre ovviamente senza offendere nessuno, i commenti sono sempre aperti, ma il documentario inizia con questa frase con Hillary che dice Facevamo pem pem regolarmente, anzi, forse lo facevamo più di molte altre coppie che stanno insieme da ormai 20 anni. Si inizia subito con lo shock, si inizia subito con una notizia bomba, raghi, perché, cioè, tutto io mi sarei aspettato, ma che iniziasse un documentario in questo modo, proprio no, ma secondo me ha voluto dire subito questo fatto dell'ensuola, no, del letto di casa loro, per allontanare i pensieri della gente che magari diceva, vabbè, magari una o l'altra hanno preso l'amante perché loro due frigidi ormai non facevano più pem pem e quindi hanno voluto trovare intimità in altre persone. Con queste parole però Hillary ci dice, ma no, noi lo facevamo anche spesso e volentieri. Buon per voi, ragazzi. E dopo questa frase shock diciamo che inizia il suo racconto. Il racconto inizia nel novembre del 2022 in cui lei dice che in quel periodo aveva trovato Francesco già cambiato, era diventato un po' più schivo, sempre arrabbiato, lo trovava, insomma, diverso. E all'inizio lei non sapeva il motivo ma non gli aveva neanche chiesto più di tanto perché si era limitata ad osservare e poi dopo qualche giorno gli ha chiesto che cosa c'era che non andava ma che lui comunque o non rispondeva o comunque sviava nelle risposte. Questa situazione è andata avanti per un mesetto in cui sempre di più Francesco dice a Hillary a un certo punto io mi sono reso conto che proprio ce l'aveva con me. Era arrabbiato con me ma non sapevo il motivo. Ma quando? Il 28 gennaio del 2022 quindi siamo a tre mesi dopo durante una cena lei dice ai parioli a Roma c'era Francesco, lei e poi c'era Alessia che è una delle migliori amiche di Hillary e tra le altre cose anche la sua parrucchiera penso perché lei dice è quella che mi fa i capelli durante gli eventi e varie cose e poi c'era anche un'altra coppia ma verso la fine di questa cena Francesco chiama in disparte Alessia e gli chiede se poteva andare con lui perché doveva domandare una cosa e poi chiama anche me e sempre Hillary racconta quando io lo raggiungo e raggiungo anche Alessia Francesco mi prende il telefono va su Instagram scrive il nome di un ragazzo e prende il suo profilo ce lo mette davanti agli occhi e ci fa una domanda conoscete questo ragazzo? Loro dice Hillary che a questo punto gli hanno mentito perché loro lo conoscevano ma gli hanno detto di non averlo mai visto prima e quindi gli dicono una bugia dal momento in cui lei dice questa bugia si rende conto che in realtà lui l'aveva sgamata raghe perché non è che te fai una domanda così a caso quindi lei scopre cioè sa già dentro di sé che e scopre che in tutto questo tempo lui ce l'aveva con lei perché pensava o comunque sapeva che Hillary aveva conosciuto questo ragazzo e qui inizia la storia di questo ragazzo non fanno mai il nome ma lei racconta che in realtà probabilmente Francesco Totti ha saputo dell'incontro con questo ragazzo tra con Alessia e Hillary perché Totti aveva tutti i codici di sblocco del telefono di Hillary quindi probabilmente durante una sera o un giorno gli ha preso il telefono ha controllato nella chat tra lei e Alessia e ha visto dei messaggi che riguardavano questo ragazzo Hillary Blasi a questo punto ce li fa leggere ci fa anche ascoltare i vocali e la storia in poche parole ve la faccio proprio breve così poi ve lo potete anche andare a vedere se no vi tolgo tutta la curiosità lei racconta che questo ragazzo era un bel ragazzo ok ma loro fra amiche facevano comunque le galline tra virgolette no possiamo dire così si divertivano e avevano deciso di andare a prendere un caffè con lui quando poi lui ha chiesto a Alessia e a Hillary se il caffè lo avrebbero preferito prendere a casa sua perché abitava appunto vicino alla stazione e loro poi dovevano andare a prendere il treno per andare a Milano mi sembra loro accettano e vanno a prendere il caffè a casa di questo ragazzo ci stanno 40 minuti ma dice Hillary non si fa niente perché era un caffè così perché ci divertivamo non c'era niente di pempere pempuale non c'era niente di losco ci stavamo divertendo era un ragazzo simpatico e quindi è finita lì Francesco probabilmente si è arrabbiato perché ha visto in questi messaggi una cosa un po' losca ok lo farebbero tutti ragazzi anche perché non lo so io se credere a questa cosa che è stata raccontata se effettivamente c'è stato solo un caffè oppure no non so neanche se tutta questa storia regge da qualche parte però questa è la versione di Hillary Hillary dice Francesco alla fine io ho scoperto che lui ce l'aveva con me perché pensava che io l'avessi tradito con questo ragazzo quando in realtà ci sono andata a prendere il caffè 40 minuti ma ero insieme a Alessia non c'era assolutissimamente niente di compromettente iniziano quindi le liti raga perché ovviamente ormai avevano scoperto le carte e Hillary Blasi ci dice che a questo punto lei durante una lite gli dice a Francesco oh dopo 20 anni adesso tocca a te l'ho sempre fatta io la parte del devo crederti in tutto quello che mi dici nonostante le voci che escono per una volta che tocca a te ora stacce nel senso mi devi credere non è successo nulla e Francesco a questo punto Hillary dice che le risponde e lo leggo io non so come tu abbia fatto io non sono come te sono fatto così dalla testa non mi levo questo caffè quindi il caffè con questo ragazzo da parte di Hillary era diventato una vera e propria ossessione per Francesco tant'è che questo è stato diciamo il via per rovinare il loro rapporto il loro matrimonio al tempo stesso più passa il tempo più iniziano le litigate più Hillary si sente in colpa di questa cosa e proprio in unica in questo documentario lei dice io mi sono ho iniziato a sentirmi in colpa anche perché lui mi ci faceva sentire in colpa e mi diceva che avevo rovinato tutto che lui praticamente era morto che non viveva più che io l'avevo ucciso per via di questo caffè e in più io mi sono messa anche nei suoi panni e lo capivo capivo la sua posizione ok quindi mi sentivo ancora più in colpa e alla fine continuavo a provare a parlarci per affrontare questo problema ma lui comunque non si smuoveva dalla sua posizione non cambiava idea non mi credeva e devo dire che anche qui Hillary inizia a piangere Hillary piangerà tantissimo in questo docu reality e boh mi ha fatto un po' tenerezza ok perché è normale no riaffronti tutti gli ultimi venti anni della tua vita con le cose belle le cose brutte comunque anche se poi è finita male è normale no ci hai tenuto magari ci tieni ancora un po' ci rimani un po' così le lacrime sono normali però c'è ancora il fatto che l'hai fatto tutto di nascosto dentro un real cioè dentro un documentario non lo so insomma mi è piaciuto poi comunque ve lo dirò alla fine però boh sono rimasto un po' così ok bello ok emozionante ma perché aspettare tutto questo tempo risponderemo a questa domanda alla fine di questo video perché dopo queste prime dichiarazioni si inizia tutto il racconto della loro storia d'amore infatti si torna alle origini a parlare non ci sarà solo Hillary ma ci sarà anche sua mamma sua sorella ci sarà un giornalista ci sarà poi anche Giorgia che a quanto ho capito è la moglie del cugino di Totti ma che è comunque molto molto amica di Hillary e farà insieme a Hillary una cosa che ne parleremo non vedo l'ora ad arrivarci la mamma di Hillary inizia dicendo che comunque fin dall'età di tre anni Hillary Lasi aveva iniziato con la televisione facendo delle pubblicità e dai tre ai sette otto anni aveva praticamente pubblicizzato qualsiasi prodotto disponibile in Italia in televisione ma dal Giotto ai dieci diciamo che veniva chiamata sempre meno spesso e lei siccome non era più un divertimento ha voluto smettere si è presa un attimo di pausa fino a quando provino dopo provino dopo provino dopo provino fa il provino per passaparola quando ha diciannove anni questo provino la mamma dice che Hillary gli aveva detto è l'ultima volta io prendo il treno e vado se va bene ok se va male chiudo tutto e ragazzi ragazzi la storia ci insegna che il 10 settembre 2001 all'età di diciannove anni Hillary Blasi sarà una letterina di passaparola condotto da Gerry Scotti da lì ovviamente inizia anche un po' la popolarità perché a quei tempi magari più giovani non se ne rendono conto negli anni 2000 fare la velina fare la letterina fare il tronista di uomini e donne era praticamente la massima aspirazione per i ragazzi dell'epoca e quindi le veline le passaparoline tutte queste showgirl così erano viste praticamente come delle dee no? scese in terra e automaticamente quasi tutte si fidanzavano o si sposavano con i calciatori quindi tutti i ragazzi e le ragazze normali quelle comuni volevano fare la velina volevano fare la letterina anche perché sapevano che poi sarebbero venute a contatto con dei calciatori ok? io me lo riorno ero giovanissimo ma me lo riorno l'ho vissuta anch'io i momenti di Monella Vagabonda Angel Devil e tutte queste marche qui comunque questo è un altro discorso ragazzi perché arriva il Natale 2001 la sorella di Ilari Blasi riesce in qualche modo a conoscere Francesco Totti e fin da subito Francesco Totti che all'epoca era già un calciatore super famoso non solo in Italia ma in tutto il mondo perché comunque era il calciatore più forte della Roma pressava la sorella di Ilari per voler conoscere Ilari Blasi addirittura dicendoli che mi sono già innamorato io so già che questa ragazza la sposerò fammela conoscere e infatti l'incontro avverrà poco dopo in un pub di Roma Ilari Blasi in questo documentario ci dice che non fu stato amore a prima vista almeno da parte sua anche perché non aveva dato molta importanza a questo primo incontro perché era un pub era comunque rumoroso non era comunque un appuntamento vis a vis e quindi ha detto vabbè andiamoci vediamo un po' ma dopo questo primo incontro fu organizzata anche una scena e da quella scena lui prende il numero di lei e inizia a scriverle quasi ogni giorno messaggi comunque normali di un ragazzino qualsiasi tipo che fai come stai dove sei tutte queste robe qua e piano 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 diciamo che i due iniziano a uscire insieme Francesco super innamorato Ilari sempre un po' diciamo sulle sue anche se ammette che comunque era presa si stava innamorando di Francesco lei si voleva trattenere perché lo dice proprio chiaramente non volevo essere una tacca in più nella sua cintura ok diciamo così ma si scioglie completamente quando arriva il derby della Roma in cui lui la invita dice che deve andare assolutissimamente a vederlo lei lei alla fine accetta e quando lui segna il gol si toglie la maglia e ha la t-shirt sotto la scritta sei unica insomma quella famosissima che tutti noi conosciamo e da lì inizia proprio la vera e propria storia d'amore anche perché mi sembra inutile dirlo ma ve lo dico perché non si sa mai questa maglia era dedicata a Hillary ok era per quello che lui voleva e ci teneva tantissimo che lei fosse lì presente per vedere nel caso in cui lui avesse segnato un gol il pensiero che aveva avuto per lei la storia d'amore continua e nel frattempo passano due anni e finalmente arriva anche la proposta di matrimonio proposta di matrimonio in cui lei scopre anche di essere incinta e quindi il 19 giugno del 2005 si sposa quando era incinta di 5 mesi del primo figlio Cristian l'evento andò in diretta televisiva insomma diciamo che Ilaria e Totti sono stati molto importanti per la televisione italiana perché sono stati anche molto paragonati tipo a una nostra royal family ok e soprattutto a Roma erano veramente degli dei ok quindi ripeto per i più giovani può sembrare strano che un matrimonio venga messo in diretta in televisione tipo appunto quello dei dei reali inglesi ma ai tempi veramente la loro popolarità era enorme ragazzi e quindi non vi dovete scioccare di questa cosa insomma matrimonio fatto super contenti nasce Cristian nel primo figlio poco dopo nasce anche Chanel la seconda e poi la terza figlia Isabel arriverà nel 2016 ok e di Isabel lei dice che è stata proprio una figlia che loro hanno voluto perché ormai gli altri due erano già più grandi e sia Francesco che Hillary sentivano il bisogno di rifare un'altra gravidanza di rifare un altro figlio e quindi è stato proprio un figlio cercato no la mamma di Hillary Blasi dice in questo reality che il rapporto che ha avuto con Totti fin dall'inizio era un rapporto super bello in cui lui era sempre stato super rispettoso era sempre molto carino con lei e con Hillary ovviamente e mi ha fatto ridere il fatto che la mamma di Hillary dice che le prime volte quando Francesco arrivava a casa di loro lei si vergognava un po' della casa umile che aveva perché si aspettava che comunque lui mega calciatore miliardario abituato alle ville macchine di lusso e tutto quanto la mamma si è sentita un attimo un po' così in difficoltà però ha detto Francesco non mi ha mai fatto pesare questa cosa anzi era come se neanche la guardasse la casa e c'è anche un gossip un po' così carino che dice Hillary in cui racconta che durante la prima uscita alla loro uscita ufficiale Francesco era andata a prenderla con la Ferrari e lei non ho capito bene come insomma gli tira una botta alla portiera forse aprendo il portone di casa non lo so e io mi immagino Francesco nero nel senso vedi una ragazza ti distrugge la portiera della macchina praticamente che non è una Fiat Panda che comunque anche se fosse una Panda uguale ma è una Ferrari e al tempo stesso però non puoi dire niente perché è la prima uscita quindi non puoi arrabbiarti infatti Hillary dice un po' più in là nel tempo quando poi proprio stavamo insieme lui me l'ha anche rinfacciato bonariamente dicendo non potevo dirti niente ma come me l'hai fatta penare quella cosa curiosità carina comunque Hillary Blasi di Francesco dice che gli è piaciuto e ovviamente si è innamorata di lui non per via dei soldi ma perché Francesco come ha detto anche sua madre era una persona molto umile nonostante tutto il successo che aveva e era umile proprio come lei e soprattutto era molto per la famiglia gli piaceva i bambini e insomma gli sembrava una persona a modo nonostante che fosse appunto Francescone Totti nazionale questa storia procede nel migliore dei modi fino a quando Francesco dà l'addio al calcio l'addio al calcio di Francesco Totti è datato 28 maggio 2017 già nel periodo precedente Hillary dice che lui era già depresso perché giocava sempre meno ovviamente sapeva che prima o poi doveva abbandonare il mondo del calcio e stava affrontando appunto un periodo buio ma lei dice che tutti loro gli sono stati accanto ovviamente ripete è difficile cercare di aiutare qualcuno durante il suo periodo buio ma tutti noi siamo stati lì abbiamo cercato comunque di dargli una mano di dargli manforte e perché soprattutto capivamo che sarebbe stato un cambiamento super grande della sua vita anche perché era quello che lui aveva fatto da quando era nato di punto in bianco deve smettere come se fosse andato in pensione e capisci al tempo stesso che tutte le emozioni che lui provava ogni settimana tipo andando allo stadio anche soltanto odorando l'erba del prato del campo da calcio o comunque avere tutti i tifosi dalla propria parte di punto in bianco tutto questo non ci sarà più lei dice che capiva quello che stava passando Totti ma nonostante tutto dopo l'addio che c'è stato al calcio di Francesco che è stato un evento anche lì a Roma di proporzioni bibliche nei giorni successivi ci dice che Francesco Totti rimaneva sul divano a guardare la televisione a mettere in repeat il giorno appunto del suo addio però al tempo stesso lei dice anche che più passavano i giorni più lei vedeva che comunque la cosa stava cambiando che probabilmente lui stava sempre meglio giorno dopo giorno e pensava che lui stesse riacquistando un attimo di serenità e accettasse il fatto di non essere più Francesco Totti della Roma ma in realtà si stava sbagliando anche perché nello stesso periodo in cui lui fa l'addio al calcio Ilari Blasi ha uno sprint di carriera televisiva assurda perché inizia a condurre il grande fratello VIP poi l'isola dei famosi insomma gli danno tantissimi programmi in prime time su canale 5 e questa cosa diciamo che poteva essere un punto in più per mettere in crisi Francesco Totti Ilari Blasi ammette anche senza giri di parole che quello è stato il periodo più difficile della loro storia d'amore se non contiamo poi com'è finita quindi possiamo anche solo immaginare quello che hanno passato tutti e due no? perché non deve essere stato facile la situazione comunque va avanti la loro storia va avanti e arriviamo al 28 gennaio del 2022 che è stato chiamato La Rivelazione qui ritorniamo all'inizio del documentario perché vi ricordate che a gennaio c'era stata quella cena e Totti gli aveva chiesto a lei e Alessia chi è questo ragazzo insomma fatto del caffè io sto seguendo la linea del documentario quindi non è che sto facendo in su e in giù così a caso perché so scemo il documentario è stato così quindi dopo un breve recap di tutto quello che è stato la loro storia d'amore la loro carriera e come è iniziata un po' a scricchiolare ritorniamo all'inizio il 28 gennaio 2022 in cui Ilari Blasi finalmente capisce che tutti i comportamenti che aveva visto nel marito fino a quel momento e quindi che si era allontanato che era sempre irrascibile scontroso e tutto quanto con lei lei aveva capito che era dovuto a questo caffè a questo benedetto caffè e a questo benedetto scambio di messaggi tra lei e Alessia ok e quindi poi sono iniziati tutti i sensi di colpa di cui parlavamo all'inizio ma ragazze e ragazzi come se non bastasse dopo nemmeno un mese il 21 febbraio esce la prima notizia su Dagospia la prima notizia che vuole i due coniugi in crisi questa notizia viene ripresa da chiunque ne abbiamo parlato anche noi ovviamente e il giorno dopo il 22 febbraio esce anche un nome e esce per la prima volta il nome di Noemi Bocchi ragazza che è stata affibbiata subito a Francesco Totti come sua nuova amante come sua nuova fidanzata tutti i giornali riprendono anche questa notizia cioè dando per scontato che fosse verità e questa cosa a Hillary Blasi ha dato molta noia anche perché lei dice che lo ha chiesto più e più volte a Francesco Totti ha detto ma chi è questa soprattutto quando è uscita la famosa foto che ritrae Francesco Totti allo stadio e poi un po' più in là Noemi Bocchi quando è uscita questa foto lei dice che ne ha parlato con Francesco chiedendole ma chi è questa qui e lui risponde non so chi sia e lei ma come non so chi sia c'è anche un nome e cognome è vicino a te dicono che vi conoscete cosa sta succedendo adesso vedi che ci sei te dall'altra parte altro che il caffè mio qui c'è una foto e lui gli risponderà ma che ne so mi avrà chiesto la foto per i suoi bambini e guarda anche la foto sta a quattro file dietro mica sta con me io non la conosco e la ribasi per tutto il documentario ci racconta di un Francesco Totti comunque molto sicuro di sé molto bravo a fingere o comunque a farti credere che quello che stava dicendo era verità tant'è che anche lei dopo che gli dice queste cose effettivamente vede insieme alla madre che non è una fotografia comunque scandalosa e che è vero che lei questa Noemi Bocchi allo stadio non era accanto a lui ma era un po' più indietro e forse probabilmente dipende dall'angolazione della fotografia scattata e tutto quanto si stavano facendo dei castelli in aria per nulla nonostante questo comunque Hillary dice che c'è stata male continuava a chiedere a lui chi fosse e lui le ripeteva io non so chi sia non so non la conosco e ovviamente dopo vent'anni che sei con questa persona ti fidi dice Hillary e dice però ma se è vero che non la conosci stanno dicendo in giro che è la tua amante che siete fidanzati se è una fake news devi fare una smentita perché come puoi non smentire una cosa del genere falla ed è lì che esce poi il giorno dopo il video smentita di Francesco Totti quello di cui abbiamo parlato anche noi in cui dice ai giornalisti in poche parole fatevi l'affari vostri invece di dire tutte queste stronzote tutte queste fake news anche perché ci sono dei bambini di mezzo non fate star male una famiglia per nulla con le vostre stronzote ok in poche parole ha detto questo anche se con altre parole ma come ben sappiamo non è finita qua anzi con l'uscita di questo video smentita da parte di Francesco Totti i giornalisti ci danno ancora più dentro dicendo che questo video non era credibile perché tutti accusano Francesco Totti di aver fatto una smentita comunque debole che era moscia che non convinceva e quindi hanno convinto ancora di più i giornalisti che questa cosa era vera e a questo punto Hilary Blasi si trova di fronte a un bivio a chi credo credo i giornalisti che comunque ok hanno fatto vedere una foto ma è una foto un po' così ma continuano a dire e far uscire notizie giorno dopo giorno o credo a mio marito che è stato con me vent'anni per il momento credo a mio marito anche perché al tempo stesso uscì una lista praticamente di uomini una lista infinita di uomini che erano stati affibbiati a me come miei amanti dice lei e quindi io non stavo capendo cosa stava succedendo in quel momento e come se non bastasse al tempo stesso lei doveva presentare l'isola dei famosi stava per riniziare la nuova edizione dell'isola dei famosi e come prassi quando inizia un nuovo reality il conduttore va a fare l'intervista da Silvia Toffanin a Verissimo e qui arriva il bello raga a questo punto anche quest'anno lei doveva andare da Silvia Toffanin ma era conscia del fatto che era appena uscita la notizia virale in tutta Italia anzi anche in tutto il mondo perché è stata ripresa anche in America in Europa è stata ripresa ovunque era conscia del fatto che l'argomento non sarebbe stato tanto l'isola dei famosi quanto però quello che stava succedendo e la presunta crisi del suo matrimonio quindi richiede a Francesco Totti come doveva comportarsi con questa intervista e Francesco gli dice puoi dire tutto quello che vuoi perché tanto non c'ho nulla da nascondere quello che dicono loro è falsità quindi vai tranquilla e di quello che devi dire lei a questo punto arriva da Silvia Toffanin e fa quella cosa quell'intervista di cui abbiamo parlato anche noi in Spilling the Tea tempo fa in cui appunto si riferisce ai giornalisti e in poche parole gli dà della merda gli dice che sbagliano a dire le notizie e a darle per certe nonostante non fosse vero niente ma che anzi la crisi non c'era e che quindi loro giornalisti avevano fatto una grande figura di M lei nel documentario dice ora al giorno d'oggi a riguardarmi mi sembrava una cretina ok però comunque io lì in quel momento ero convinta anche perché mio marito mi aveva detto io non ho nulla da nascondere quindi tutto quello che dicevo non è che l'ho detto perché non volevo far trapelare notizie ma perché veramente pensavo che tutto quello che fosse uscito era una fake era una fake news perché io mi fidavo di mio marito crediamo? non ci crediamo? sta a voi deciderlo qua sotto tramite commento io però vi racconto quello che dice lei fatto sta che con queste parole Ilari Blasi che con queste parole Ilari Blasi vuole mandare un messaggio ai giornalisti e ai fotografi e il messaggio è non vi permettete più a fare queste elezioni perché non avete nulla da dimostrare ovviamente ragazzi e ragazzi in tutta Italia non si parla d'altro che di Noemi Bocchi la nuova fidanzata presunta di Francesco Totti della crisi del loro matrimonio ma in casa Ilari e Francesco loro parlavano ancora che Francesco non si fidava di Ilari per via di quel famoso caffè e qui arriva la richiesta di Francesco per far sì che io mi possa fidare ancora di nuovo di te e possiamo comunque mettere un punto a questa crisi devi fare queste cose devi toglierti da tutti i social non devi più vedere la tua amica Alessia devi cambiare il numero di telefono e devi smettere di lavorare a questo punto Ilari è messa davanti a una scelta e lo dice anche lei stessa io devo scegliere tra la mia vita e la sua vita ma tra la sua vita e la mia vita io alla fine scelgo me perché questo non è il modo per risolvere le cose e raghi con questa cosa io non so se è vera comunque l'ha detta lei parliamo di questo con il fatto che doveva cancellarsi ovunque e doveva anche smettere di lavorare mi viene in mente che quindi il giornalista che disse e l'ha detto anche in questo documentario che nel momento in cui Francesco è andato in pensione e si è sentito perso Ilari dall'altra parte è diventata sempre più famosa e importante per Mediaset Francesco è stato diciamo un po' geloso di questa cosa e quindi le ha chiesto ha preso la palla al balzo e le ha chiesto di smettere di lavorare per di almeno siamo uguali patriarcati tossici ne abbiamo non si sa se è vero però comunque tra vari alti e bassi la loro relazione ad ogni modo continua si trascina Francesco Totti a maggio si assenta e va a Monte Carlo va un po' a Monte Carlo poi va in Albania insomma deve fare i suoi viaggetti e proprio mentre è mentre è via i primi di giugno un giornalista un paparazzo chiama Ilari Blasi e le chiede un incontro perché dice che gli doveva far vedere una cosa super importante e soprattutto gli doveva dire una cosa super importante Ilari Blasi quindi ne approfitta scende da Milano lo incontra a Roma vanno a prendere un caffè e questo paparazzo gli dice che c'era una foto che lui aveva di Francesco Totti a Monte Carlo gli mostra questa fotografia e si vede che è questa qua e si vede Francesco nella jacuzzi insieme ad un loro amico comune e ad una ragazza che è ripresa di spalle lei dice anche che questa jacuzzi la conosce molto bene perché fa parte della spa di uno degli hotel in cui comunque vanno sempre quando sono a Monte Carlo ma la cosa che si chiede è come mai mi hai fatto vedere questa foto perché non hai aspettato che la ragazza magari si voltasse o si alzasse per fotografarle il viso prima di farmela vedere perché così te stai alludendo che Francesco ha un amante me lo stai facendo vedere a me mi stai mettendo la pulce nell'orecchio ma in realtà non è una prova perché questa può essere chiunque io non so chi è non mi hai fatto vedere la foto io non posso vedere se è la stessa Noemi Bocchi di cui tutti parlano perché mi hai fatto questa foto e basta la spiegazione l'avremo verso la fine del documentario quindi vi conviene rimanere sintonizzati qua ma adesso pausa sorso perché ovviamente quando il Francescone Totti nazionale è tornato dai suoi viaggi Ilari Blasi gli ha chiesto sta roba e la risposta è stata questa sarà stata una signora straniera c'erano tante persone ma che ne so io chi è lei non lo vedi che nessuno ha ripreso questa storia non ha valore era freddo era convincente dice Ilari Blasi e quindi diciamo che comunque in qualche modo le ha creduto nonostante per Roma inizia a girare appunto la voce che lui avesse una seconda vita ma i romani lo coprivano e a Ilari nessuno ha mai riferito nulla lo coprivano semplicemente perché Francesco Totti è come l'ottavo re di Roma ok e quindi la gente faceva beh dai non ti preoccupare il tuo segreto è il nostro segreto ok è per quello che lei era all'oscuro di tutto dice sempre lei questo documentario ma arriva poi la svolta ragazzi il 25 giugno 2022 Francesco Totti prende la loro piccola Isabel e la porta a pranzo fuori quando la bambina torna a casa da Ilari Ilari si rende conto e si accorge che lei ha dei giochi nuovi e gli fa delle domande dice ma chi te l'ha regalati di chi sono perché e la bambina gli dice guarda me l'hanno regalati me l'hanno regalati altri bambini il fatto è che Ilari dice io non ho all'inizio fatto molte domande indagato molto perché era la fine dell'isola dei famosi dovevo fare la finale quindi era tutto un via vai e gli ho dato poco spago all'inizio ma al secondo weekend quando ancora la bambina va con Francesco a giocare con questi nuovi amichetti lei la prende e gli dice ma con chi stai giocando chi sono questi bambini ti ricordi per caso dei nomi sono maschi sono femmine Isabel ci pensa un po' sempre dice Ilari raga e gli dice sì c'è questa bambina e gli dice il soprannome non gli dice il nome gli dice il nickname il soprannome di come la chiamavano e poi ha detto anche che questa bambina aveva un fratellino più piccolo e a questo punto gli dice il nome del fratellino e si accende una lampadina nel cervello di Ilari Blasi e si ricorda che la Noemi Bocchi di cui parlavano tutti i giornali qualche mese fa aveva due figli un maschio e una femmina e quindi decide di fare delle telefonate per scoprire come si chiamavano i figli di Noemi e scopre che il tutto che tutto quello che la figlia gli aveva raccontato coincideva lì finalmente per la prima volta dice Ilari Blasi ho avuto le conferme ho avuto le risposte a tutti i dubbi di questi ultimi mesi mi stava iniziando a crollare il mondo addosso perché non potevo credere che l'uomo che era stato insieme a me per vent'anni sono metà della mia vita che ha sempre detto di amarmi e leggo che senza di me non poteva vivere avesse fatto una cosa del genere mi sono sentita stupida ho provato una delusione ho provato schifo un po' di rabbia ma comunque era leggera perché i sensi di colpa finalmente erano spariti non si poteva più sentire in colpa di questo caffè preso con quel ragazzo e qui scoppia in un altro pianto ma ragazze e ragazzi lei a questo punto vuole le prove ok e qui arriva l'investigatore ma prima dell'investigatore privato lei va da Giorgia che Giorgia vi ricordo è la moglie del cugino di Francesco Totti la chiama e dice guarda stasera devi uscire con me devi venire in un posto perché quella stessa sera Francesco le aveva detto che sarebbe uscito a una cena ok e siccome lui non le avrebbe mai ammesso di avere un'altra lei aveva bisogno di vederlo con i propri occhi aveva bisogno delle prove quindi cosa succede siccome aveva scoperto l'indirizzo di casa di Noemi lei prende con Giorgia la loro macchina e vanno proprio a casa di Noemi e lì vedono che c'era parcheggiata la macchina di Francesco a questo punto cosa succede Hilary Blasi esce dalla macchina lo racconta proprio lei è una cosa mi ha fatto morire perché mi ci sono rivisto tantissimo esce dalla macchina va un po' per intravedere perché sentiva delle voci no? perché evidentemente c'era stata una cena in un giardino va tra i cespugli però aveva paura di essere beccata quindi ritorna in macchina e fa andare Giorgia perché dice magari a te non ti riconoscono no? Giorgia va ma nel mentre che fa Capolino senti una voce che dice c'è qualcuno che ci sta spiando e quindi ritorna in macchina scappano fanno per accendere la macchina quando fanno retromarcia prendono un albero in pieno morto al tempo stesso Hilary Blasi dice ho fatto comunque la fotografia alla macchina di Francesco che era parcheggiata lì ma al momento sono stata ancora zitta perché poi ho ingaggiato l'investigatore privato l'investigatore privato che alla fine non mi è servito a nulla perché si è fatto sgamare ok? si è fatto sgamare perché seguendo Francesco Totti un'altra sera aveva scoperto che lui aveva parcheggiato la macchina in un luogo poi si era fatto venire a prendere dai suoi amici per andare in un altro ma sempre i suoi amici chiamati le sentinelle hanno beccato questo investigatore quindi non poteva fare le fotografie ma a questo punto beccato l'investigatore Francesco sapeva che Hillary sapeva e quindi il giorno dopo di questa cosa il 6 luglio 2022 Hillary Blasi gli dice a Francesco ma che è successo ieri sera? lui si arrampica un po' sugli specchi e a un certo punto Hillary dice guarda basta basta inventarsi cose io so tutto non ti preoccupas che so tutto e lui gli risponde ma ti rendi conto di quello che hai fatto? hai messo su un investigatore privato Hillary dice certo mettendolo all'angolo per fargli dire la verità e a questo punto o e un potevi salvarti altrimenti lui ammette che c'è un'altra ma al tempo stesso dice che non è una cosa seria ma è una storiella un po' così passeggera Hillary a questo punto dice era bravo a dire cazzate e poi arriva quindi la loro separazione ufficiale l'11 luglio con il comunicato a Lanza comunicato che Hillary ci dice che lui voleva scrivere dicendo che aveva provato qualsiasi cosa le aveva provate tutte per cercare di mettere ordine il loro matrimonio per non farsi lasciare e tutto quanto ma Hillary aveva risposto no perché uno è vero ha voglia di scrivere queste robe sono cavolate uno è vero quello ha fatto c'ha mantra e finalmente dopo questo comunicato iniziano ad uscire le foto vere di Francesco Totti che va a casa di Noemi che va a cena con Noemi e quindi ormai era diventata una cosa di tutti adesso arriva il perché della fotografia quella di Spalle a Monte Carlo perché il 4 agosto Ilari Blasi viene contattata sempre da un direttore di giornale questo direttore del giornale non spiega chi non spiega cosa dice semplicemente che a maggio gli erano arrivate delle fotografie gliele fa vedere e in queste fotografie sono quelle di Monte Carlo ma qui il viso di Noemi si vedeva benissimo dice Ilari e dice anche che il direttore aveva contattato ovviamente anche Francesco Totti dicendogli dell'esistenza di queste foto e che Francesco lo aveva disperatamente implorato gli aveva chiesto di non farli uscire e quindi lei qui ha capito come mai il paparazzo al tempo gli aveva fatto vedere soltanto quell'altra foto perché le altre erano sparite perché Francesco Totti aveva detto no per favore non fatelo uscire quindi siccome era il re di Roma avevano fatto quello che volevano ma ormai la separazione era ufficiale e quindi ora queste foto gliela ha fatte vedere il direttore del giornale ok? l'11 settembre 2022 esce l'intervista di Francesco Totti al Corriere in cui diceva appunto l'abbiamo parlato quindi andatevelo a rivedere sempre nella playlist di Spilling the Tea ma in poche parole lui diceva che sua moglie quindi Ilarie non c'era stata quando lui aveva più bisogno di lei che non c'era ormai più dialogo nella loro relazione e che quindi non c'era più niente dice inoltre che non è stato lui quello a tradire per primo riferendosi al fatto che ora sappiamo del caffè famoso e quindi e in più accusa Ilarie Blasi di avergli rubato tutti i Rolex e tutti gli orologi e ora ragazzi finalmente la cosa che mi interessava di più al mondo parliamo dei Rolex e delle borse e delle scarpe di Ilarie Blasi e di Francesco Totti Ilarie a parte che dice non lo posso dire non solo pure ladra nel documentario e ci racconta che il 15 luglio 2022 lei va in questa cassetta della sicurezza di sicurezza e la apre e prende i suoi orologi quelli che Francesco le aveva regalato e lascia lì tutti i suoi quelli di Francesco quindi non è vero che li ho presi tutti io ho preso solo quelli che erano miei perché è vero che me li hai regalati te ma comunque sono dei regali sono miei poi se ne va in vacanza ok e quando torna scopre che la sua cabina armadio praticamente era completamente vuota e quindi aveva scoperto che Francesco Sotti per vendicarsi di questa cosa degli orologi gli aveva sgraffignato tutte le borse di lusso e tutte le scarpe ok e lei dice ma do sono do son finite com'è possibile perché comunque al tempo lui stava sempre con lei in casa e quindi lei scopre così per caso a metà settembre che la porta della spa di casa non funzionava nel senso non sapeva più era chiusa chiama il fabbro la fa aprire e in questa spa non c'era nulla però io sono andata fino in fondo in fondo in fondo in fondo e lì ho trovato finalmente le mie scarpe e le mie borse ma la felicità finisce in tre secondi perché mi rendo conto che questa era una minima parte di quelle che io avevo dove erano tutte le altre passa un giorno e alle undici di sera lei si ricorda di avere un soppalco un soppalco che in cui praticamente cioè sapriva così e poteva reggere tanto peso quindi lei apre questo soppalco prende le scale e lì trova nel buio lontane lontane tutto il resto del suo tesoretto lei cosa fa prende tutta la roba chiama su madre mi sembra anche la sua manager o qualcuno del genere le prende prende tutte queste borse tutte queste scarpe e le trasferisce a casa di su madre che abita praticamente davanti ok perché dice perché così almeno non sta Francesco a rirubarmene a questo punto lei super soddisfatta e vorrebbe aver vinto la guerra ok dei Rolex delle scarpe delle borse perché non solo ho ritrovato la mia repurtiva ma ho anche i miei orologi quindi a tette è rimasto nulla ma gli era rimasto qui a lei il fatto che per cinque mesi Francesco Sotti continuava a vivere insieme a loro insieme a lei nella stessa casa ma nonostante questo diciamo che era una cosa ufficiosa perché lei dice che ok lui veniva un giorno andava via non sapevo se tornava le 4 di notte se tornava la notte così perché comunque era sì casa sua ma non stavamo già più insieme però io al tempo stesso speravo che un giorno andasse prima o poi prende la palla al balzo usando come pedina di scambio diciamo che è brutto da dire però è così sua figlia Isabel perché lui a dicembre le dice che voleva portare i suoi figli tutti i suoi figli in una crociera a Caraibi e doveva avere il permesso anche della mamma perché l'avrebbe portata insomma così lei dice no bello no 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 non ti do il permesso te lo do solo se quando torni esci da questa casa e quindi dall'altra parte lei racconta che lui era comunque pressato perché c'era tutti gli altri che dovevano andare in questa vacanza che aspettavano una sua risposta si è sentito obbligato ad accettare ok e lo dice anche lei mi sono sentita come se avessi usato Isabel come merce di scambio ma per la serenità dei nostri figli l'11 gennaio 2023 è uscito di casa e poi arriviamo alla fine con l'ultime parole in cui lei dice non puoi cancellare 20 anni ci saranno sempre sarebbe stupido cancellarli è stata davvero una storia d'amore un matrimonio felice sono consapevole che le cose possono finire può succedere mi aspettavo un marito che si prendesse le sue responsabilità e poi l'uomo che ha fatto questo documentario le ha fatto l'ultimissimissima domanda e infatti le dice tutto sto casino per un caffè ma tu lo riprenderesti quel caffè il caffè famoso dell'inizio perché è stato quello l'inizio della crisi e lei finisce il documentario con questa battuta farei pure altro a questo punto dagli torto insomma vabbè allora raga il documentario super giù è questo so che il nostro video è durato più del documentario stesso quindi non so quanto vi convenga guardare questo video però dai carino mi è piaciuto come vi stavo dicendo da questo documentario io ho capito che il tutto cioè la crisi è iniziata per via di questo scambio di messaggi di Ilari con la sua amica per questo terzo ragazzo e che poi lui ha scoperto che hanno preso questo caffè e non fidandosi più delle parole della moglie perché pensava che le aveva fatto le cornoni diciamo che lì si è un po' scricchiolato tutto e poi ha conosciuto un'altra e tutto quanto quanto può essere vera una cosa del genere anche perché poi dopo che c'è stata la notizia della loro separazione ci sono tantissimi spettegules su di loro tantissimi mi hanno riferito eh ma Francesco è da sempre che l'ha tradita e quindi non è una novità è solo che lei ha aperto gli occhi ora oppure c'è anche chi mi ha detto guarda che è da anni che tutte e due fanno una vita fanno una vita separata facendo quello che gli pare con l'altri però stanno insieme per i figli quindi questa è la verità di Ilari finalmente io vi dico dopo un anno che abbiamo parlato senza che lei dicesse niente ha detto la sua e come l'ha detta guardiamo se Francesco risponderà se finirà finalmente questa storia dopo un anno dall'inizio se ci sarà una smentita da parte di Francesco se Ilari dovrà aggiungere altre cose non lo so mi è sembrato un po' diciamo una carognata fare questo documentario di nascosto ve l'ho detto all'inizio di questo video vi ho detto infatti hai fatto finta all'inizio di non voler dire nulla per privacy per i figli quando in realtà avevi il contratto così chissà quanti soldi hai preso ma al tempo stesso vi dico mappate che bomba che hai lanciato quindi noi vecchi ciabattoni di periferia ci sguazziamo con queste cose quindi grazie Ilari però vabbè era una storia che doveva finire a questo punto sapendo adesso tutte queste cose come fai continui a far finta di nulla per stare insieme no no poi io non so se credere in realtà che c'è stato solamente un caffè quel famoso caffè però oh l'ha detto lei lei ha detto ha giurato che non c'è stato nulla e boh le prove non ce l'abbiamo quindi possiamo solo immaginare possiamo solo fare delle illazioni tra di noi a questo punto fatemi sapere voi qua sotto tramite commento se avete visto il documentario unica di Ilari Blasi cosa ne pensate se siete d'accordo con me se avete magari visto o pensato qualcosa cosa che io non ho detto se ci sono delle cose che io non ho detto ma che voi reputate importanti fatelo sapere qua sotto a chi non lo ha visto e se non lo avete visto nonostante abbiate visto tutto il mio video che vi racconta il documentario guardatelo perché ci sono dei punti molto carini e dei punti boh sono stato un po' poverina così però appunto l'idea che hai fatto un documentario di nascosto non mi fa diciamo patteggiare al 100% per lei anche se secondo me la ragione la lei io ripeto io sono dalla sua parte fatemi sapere voi qua sotto sezione dei commenti sempre aperta lasciate anche un like se siete rimasti fino a questo punto se vi è piaciuto questo video lo so non era un libro era un documentario però a me piace spettacolare un po' con voi su queste cose iscrivete al mio canale se ancora non l'avete fatto adesso basta ho finito anche la mia acqua non ho più saliva quindi vi saluto ci vediamo domani ciao ciao ciao